Alla fine il dado è tratto e Ursula von der Leyen ha passato il rubicone, presentandosi disponibile a sacrificarsi per un'altra legislatura alla guida della Commissione europea. Poi bisognerà vedere se Elsa riuscirà effettivamente a trovare i voti necessari per essere nominata Presidente della Commissione, anche perché la sua è una nomina di secondo grado e poi deve passare anche al vaglio dell'Europarlamento. E se all'Europarlamento che scaturirà dalle elezioni del 8 e 9 giugno prossimo la maggioranza si sposterà verso il centrodestra, per Ursula von der Leyen i problemi saranno molto forti, anche perché lei si presenta già un candidato estremamente debole e non dimentichiamoci che la sua prima elezione fu per rotto della cuffia solo 9 voti di maggioranza e soprattutto grazie al tradimento dei 14 eurodeputati del Movimento 5 Stelle che mollarono l'alleanza con la Lega per andare con Ursula von der Leyen, forse Di Maio fiutando antitempo quello che poteva essere un investimento futuro che lui poi ha puntualmente capitalizzato facendosi nominare alto commissario per il paese del Golfo Persico una volta che è rimasto trombato alle elezioni italiane, ma tant'è. La domanda è questa Ursula von der Leyen, siamo sicuri che sia il miglior candidato per la guida dell'Unione europea dopo i disastri che ha fatto in questa legislatura? Ne parliamo in questa puntata dello schiacciassassi, ma prima vi ricordo di mettere il mi piace e di condividere i contenuti con i vostri amici. A tra poco dopo la sigla. Cari amici vicini e lontani, bentornati alla nuova puntata dello schiacciassassi da parte di Stefano Leyen. Alla fine Ursula von der Leyen, la baronessa tedesca già ministro della famiglia e della difesa in terra teutonica, protetta da Mutti Merkel che l'ha fortissimamente voluta, complice anche l'avvallo del presidente francese Macron alla presidenza della Commissione europea, essa ha deciso di sacrificarsi e di rimettere a disposizione degli europei la propria figura per un nuovo mandato alla guida della Commissione europea. Grazie. Però bisogna vedere se effettivamente per l'Unione europea la candidatura, la disponibilità di Ursula von der Leyen sarà veramente un investimento. Perché? Stante quello che è successo in questa legislatura, dove Ursula von der Leyen è stata l'artefice di tanti problemi e di tanti contratti non proprio trasparenti. Da quello dell'acquisto dei vaccini con la Pfizer, dove lei ha nascosto tutte le varie trattative private fatte tra la Commissione e la società. Il problema della limitazione delle libertà durante la pandemia con l'avvallo della Commissione europea. La gestione fallimentare del Green Deal complice anche il suo ex vicepresidente Franz Timmermans, un socialista talebano tutto d'un pezzo che ha voluto disegnare un'Europa che si distrugge da sé, salvo dopodiché seguire la sua candidatura per cercare di diventare capo del governo in Olanda, salvo dopodiché essere brutalmente trombato e senza più Timmermans tra i piedi, anche Ursula von der Leyen, fiuttando l'aria, ha incominciato a fare una manovra a U, annaquando sempre più i contenuti del Green Deal e soprattutto dei suoi contenuti più oltransistici. Ma il problema fondamentale è che Ursula von der Leyen è nata presidente della Commissione europea quasi per risulta, visto anche che è stata eletta con una maggioranza di soli nove voti, dove, guarda caso, sono stati strategici quei 14 voti della pattuglia del Movimento 5 Stelle che Gigino Di Maio ha gestito in maniera lungimirante, fiuttando forse quello che poteva essere un investimento pro sé e pro futuro, perché dopo aver stracciato l'alleanza con la Lega Salvini, dove all'Europarlamento facevano parte della stessa formazione politica, Di Maio, di punto in bianco, ha deciso di mollare Salvini dalla sua posizione contraria alla nomina di Ursula von der Leyen per darle la sua fiducia. Dopodiché, quando per Di Maio le cose si sono girate e alla tornata delle elezioni politiche del 2022 in Italia, lui è rimasto miseramente trombato, dopo pochi mesi è stato miracolosamente recuperato in salsa europea con una nomina ad personam di alto commissario per i paesi del Golfo Persico, ben sapendo che Gigino Di Maio di politiche internazionali, nonostante che abbia fatto una breve esperienza di ministro degli esteri molto inferiore a quelle che potevano essere aspettative del ruolo e del rango, non si sa cosa possa combinare in una zona estremamente calda, dove oltretutto lui con le lingue non ci capisce macchia e forse anche con il buon ton ancora di meno. Ma tant'è, intanto gli europei per due anni se lo troveranno pagato a piedi di lista 12.000 euro netti al mese, più tutta una serie di benefit di rimborso e spese viaggio, proprio grazie all'appoggio lungimirante fornito a Ursula von der Leyen a cinque anni addietro. Ma tant'è, il problema al giorno d'oggi è capire che Unione Europea si vuole, che strategie si vuole portare avanti e soprattutto quali persone si vogliono portare come interprete di questa strategia. Perché dopo aver visto all'opera Ursula von der Leyen e Franz Timmermans nella strategia dell'azzeramento delle emissioni climalteranti dell'Unione Europea e di tutti i danni che hanno fatto a intere filiere industriali, pensiamo semplicemente a quello dell'agricoltura che sta protestando quasi in tutta Europa, ma anche al discorso dell'automotive con il scenario dell'elettrificazione spinta della mobilità che sta fallendo uno dietro l'altro, ma e poi l'obbligo di riqualificazione energetica di tutti gli immobili europei che sta per fortuna rientrando, tagliando tutte quelle che erano le spinte di obblighi di ristrutturazione da qua al 2030 al 2033, cosa che era estremamente folle dal punto di vista semplicemente della tempistica. Ebbene, come può secondo voi una presidente che è stata artefici di questo scenario presentarsi per un programma politico che già adesso sembra impiantarsi su uno scenario totalmente diverso? Che credibilità c'ha? Certo, la politica ci ha abituato alle pirouette più ambiziose, a tripli salti nel vuoto carpiati con addirittura avvitamento e senza rete di protezione. Ci sta, però la politica, perlomeno quella politica, quella P maiuscola che dovrebbe essere la massima aspirazione dell'Unione Europea, dovrebbe puntare a vedere quelli che sono il benessere degli europei, al rilancio dell'economia e soprattutto ad evitare che l'Unione Europea venga a essere un tappetino di accesso di potenze esterne, passando da quella che è stata dell'influenza americana a quella che potrebbe essere molto probabilmente l'influenza economica della Cina, visto che tutti i provvedimenti che Ursula von der Leyen e il suo ex sodale Franz Timmerich hanno preso, di fatto sono stati una specie di autostrada a dieci corsie per tutto quello che era la manifattura cinese, dei pannelli fotovoltaici dove l'Unione Europea ha perso la sua capacità di produzione che una volta all'inizio degli anni 2000 era vicina al 30% per adesso essere completamente azzerata, salvo dopo che rincominciare investimenti miliardari per ricostruire un'industria che probabilmente non avrà la forza di reggersi sulle sue gambe, quando bene o male appunto c'è il monopolio cinese in fatto di produzione di pannelli suonari e soprattutto venduti a prezzi estremamente competitivi che l'Europa non può sostenere, ma anche al discorso delle terre rare, tutti i dispositivi che al giorno d'oggi servono per le energie alternative a partire poi anche dal discorso delle batterie necessarie per la mobilità elettrica che va a buttare a mare una tecnologia estremamente efficiente a basso impatto ambientale come quella del motore diesel sviluppato guarda caso in Europa in oltre 100 anni di affinamenti e soprattutto con un colpo di ala e di ingegno derivanti dai tecnici italiani che hanno inventato il sistema dell'iniezione common rail ad alta pressione, poi sviluppato dai tecnici della Magneti Marelli, allora gruppo Fiat che avevano trovato la tecnologia per poter rendere il motore diesel estremamente efficiente e simile a quello di un benzina come funzionamento che però la Fiat non ha avuto la visione e la lungimiranza di svilupparlo preferendo cederlo ai tedeschi della Bosch i quali hanno fatto poi un asse dal loro sviluppo tecnologico. Però tornando alla candidatura di Ursula von der Leyen e dal suo avallo come Spitzenkandidat, quindi il candidato di punta del Partito Popolare europeo dove fa parte anche Forza Italia e subito Tajani si è immediatamente allineato e coperto a dire Ursula von der Leyen ottima e abbondante, bisognerà vedere cosa succederà con il partito di Fratelli d'Italia dove Meloni pare avere un buon intesa con Ursula von der Leyen e di fatto lei ha avallato un futuro ricandidatura, però i conti bisognerà farli a urne chiuse, ad assetti stabiliti dell'Europarlamento e soprattutto vedere se col senno di poi e soprattutto con l'ennesima piruetta da parte della politica politicante l'Europarlamento si ricrederà sull'opportunità di tenere in sella un personaggio che ha già dato in lungo e in largo ampia dimostrazione della propria insussistenza ed incapacità nel poter portare avanti un disegno a favore dell'Europa che non sia a favore di realtà terze e soprattutto un personaggio che abbia una linea e abbia una visione di veramente di stampo europeo e che non sia semplicemente raccoglitriccia e rabberciata alla belle meglio solamente per cercare di trovare una maggioranza per poter assicurare a se stessa un proprio futuro. Vedremo come andrà a finire nei prossimi mesi, intanto da parte dello schiacciassassi si spera che i partiti europei del PPE, del Renew Europe, ma anche delle CR dei conservatori europei che dovrebbero essere coloro che daranno le carte nella prossima legislatura europea possono trovare un candidato più autorevole con meno scheletri nell'armadio e soprattutto anche con una maggiore linearità perché Ursula von der Leyen ha predicato spesso più o meno bene ma ha razzolato anche tanto e molto male. Cari amici vicini montani a questa puntata dello schiacciassi va a terminare prima di salutarvi vi ricordo di mettere il mi piace di condividere i contenuti con i vostri amici se poi volete approfondire il tema ricordatevi di andare a leggere quello che è pubblicato sul nordest quotidiano dove c'è la possibilità di fare maggiore approfondimento. Intanto da parte di Stefano e Elena un saluto e arrivederci alla prossima puntata sempre che lo vogliate ciao Grazie a tutti